Gli audio racconti, serie Solar Pulse, il pezzo di scacchi rotto, di August Derlet, Letto da Dani In una sera di giugno, nello stesso anno in cui aveva risolto lo strano caso del narciso nero, seduto al suo tavolo, Solar Pulse era intento ad inserire ritagli di giornale in uno dei voluminosi album in cui raccoglieva dati di criminologia. Assieme alla cronistoria di ciascun delitto commesso in Inghilterra, a mano a mano commentava i fatti di cronaca nera che gli passavano sotto gli occhi. La maggior parte dei delitti difetta notevolmente di fantasia. Disse Cadavere trovato in un vicolo fuori mano Una salma in un salottino Furto e omicidio Ad esempio, sentite qui Parker L'esse ad alta voce Pigionante trovato morto La signora Ottilia Baker, abitante al numero 37 di Vauburn Place, ha rinvenuto stamani il cadavere di un suo pigionante nella stanza da questo occupata. Il poveretto, che secondo le dichiarazioni della signora Baker si chiamava Landon Hall, aveva il cranio sfondato. La sua camera era stata rovistata I parenti della vittima sono pregati di mettersi in comunicazione con Scott Randiard Ci può essere qualcosa di più banale? Tacque per un po', sovrapensiero Portandosi la mano al lobo dell'orecchio sinistro Però, continuò Landon Hall è quasi certamente un nome falso Si può presumerlo non soltanto da come suona Ma anche dal fatto che evidentemente La padrona di casa sa così poco della vita e della famiglia del suo inquilino Che i parenti sono pregati di mettersi in comunicazione con Scott Randiard Secondo me, ce ne saranno migliaia di persone che tagliano la corda E assumono una nuova identità per cominciare altrove una nuova vita con un nuovo nome Mi arrischiai a dire Questo è elementare, amico mio Quello che può risultare interessante è il motivo che li spinge a farlo Inserito quel ritaglio Ponce passò agli altri Di tanto in tanto leggeva qualche brano degli articoli di Cronaca Nera Commentandolo poi succintamente L'assassinio dell'inquilino di Ottilia Baker Sembrava proprio fosse stato dimenticato Eppure, era destino che tornassimo ad occuparcene Prima della fine della serata Il campanello squillò alle otto in punto Ponce in quel momento si trovava vicino alla finestra Scostata la tenda, guardò in basso in Pride Street Toh, stiamo per ricevere la visita di una persona molto importante Osservò Chissà che non sia un invito ad un'altra di quelle piccole avventure Che vi piace tanto annotare, Parker Si allontanò dalla finestra Per farsi incontro al tizio alto ed incappottato Che la signora Johnson introdusse nel nostro appartamento Lo sconosciuto, entrato con aria circospetta Dopo aver leggermente inclinato la testa per salutare Si mise a fissare Solar Ponce Siete voi il signor Ponce Per servirvi Rispose il mio amico Porgendo una seggio al nostro ospite Che, non mancai di notare Aveva uno spiccato accento straniero In quanto alla sua faccia C'era poco da vedere Il bavero del lungo pastrano Gli copriva il mento E gli occhi Erano celati dietro occhiali e fumicati Assicurati ad un cordoncino nero Di squisita fattura Che pendeva dalle stanghette E spariva fra i risvolti della sciarpa Portava i guanti Ed una canna da passeggio di ebano Col pomina voglio Labbra sottili e ferme Naso accentuatamente aquilino Capelli neri come la notte Altrettanto nere Le cespugliose sopracciglia Che sporgevano Sopra la montatura delle lenti E' indispensabile che la mia identità Rimanga segreta, signor Ponce Lasciar trapelare che io Ho a che fare con la faccenda in questione Sarebbe una grave imprudenza Ponce si sedette di fronte Al nostro visitatore E senza ombra di malignità Domandò E quale sarebbe la faccenda in questione Signor Parenin Parenin sussultò leggermente Ma non si tradì con nessun altro segno Oh, mi riconoscete dunque Secondo me Finché quelle bandierine rimarranno Sul davanti della vostra macchina Ogni tentativo di nascondere la vostra identità E' destinato a fallire E le bandierine Indicano il consolato sovietico Replicò Ponce Ma credo che il motivo che vi ha condotto Questa sera Non sia connesso alla vostra carica E nemmeno con le questioni ufficiali Del vostro governo Non direttamente Signor Ponce Voglio dire Fino a questo istante E' così Ma da un momento all'altro Potrei ricevere da Leningrado L'ordine di occuparmi del caso Per adesso Sto agendo Solo a titolo personale Sentiamo di che si tratta Signor Parenin Forse avrete letto Sui giornali Che una certa signora Ottilia Baker La padrona di una pensione Sita al numero 37 Di Vauburn Place Ha scoperto questa mattina Il cadavere di un suo pensionante Assassinato Disse Parenin Entrando subito nel vivo Si ricordo di aver letto la cronaca Un tale chiamato Landon Hall Ovviamente un nome falso Secondo me In ogni caso L'individuo trovato morto Non è Landon Hall Continuò Parenin Il mio segretario Mi ha fatto notare La descrizione pubblicata Nelle successive edizioni Dei quotidiani Ho immediatamente riconosciuto La vittima È un emissario Del governo sovietico Un agente segreto Ben noto Per la sua astuzia E per la sua brutalità Ma anche Per i successi Addirittura Sbalorditivi Da lui conseguiti Nella fanatica esecuzione Degli incarichi Assegnategli Il suo nome Non dovrebbe Giungervi nuovo Signor Pons Si tratta Di Pieter Pruppo Davvero Disse Pons Un tempo Faceva parte Del terribile Circolo segreto Non è lui L'uomo Che freddò Il vecchio Principe Casimiro Nel 1918 E che Decapitò La granduchessa Iolanda Per non dire Di tante altre Atrocità Siete ben informato Signor Pons È il cadavere Di Propo Quello che La signora Baker Ha scoperto Nella stanza Di Landon Hall Il mio segretario Ha preso Visione del corpo Non sussistono Dubbi Sulla sua identità Vista la fama Di Propo Non sono affatto Propenso A dare la caccia Al suo assassino Disse Pons Recisamente Il nostro ospite Sorrise E io Non avevo Nessuna intenzione Di chiedervelo È appunto Perché desidero Il contrario Che volevo Tenere celata La mia identità Signor Pons Vorrei che Facesse Tutto Quanto sta In voi Per confondere Le piste Affinché La polizia Non scopra mai L'identità Del vero assassino Pons era sorpreso Ma felicissimo Gli si leggeva In faccia Santo cielo Signor Parenin Che richiesta Peregrina Vi confesso Che Propo Fe i suoi sistemi Non mi sono Mai piaciuti E non sono L'unico A pensarla Così Credetemi Potrei farvi I nomi Di molte persone Nel nostro governo Pons appoggiò Il mento Sulle mani Incrociate Poi Disse Capisco il vostro Orrore Per i metodi Di Propo Ma in vista Della eccezionalità Della vostra Richiesta Sono certo Che mi darete Un po' di tempo Per riflettere Signor Parenin Non credo Di potermi Arrogare il diritto Di bloccare Le indagini Io sarei tenuto Sul mio onore A coadiuvare La polizia Anche se Naturalmente Non sono Obbligato A mettere Tutte le carte In tavola In maniera Così esplicita Che i poliziotti Non debbano fare Altro Se non Procedere All'arresto Dovremmo Informarci Chi Scott Landiard Ha incaricato Delle indagini Un certo Ispettore Jamison Rispose subito Parenin Ah Il nostro Caro amico Jamison Sono curioso Di sapere Qual è la sua Opinione Sul caso Temo però Che la polizia Abbia avuto Tutto il tempo Di ficcare il naso Dovunque Al contrario Interruppe Il console Sovietico Mi sono valso Della influenza Del mio consolato Per far sì Che tutto Rimanesse Com'era Fino a quando Voi Non arriverete Sulla scena Del delitto Ah Eccellente Andiamo Immediatamente Allora Purtroppo Impiegammo Un sacco Di tempo Per arrivare A Vauburn Place Numero 37 Londra Era avvolta In una coltre Di nebbia Giallastra E l'autista Del console Ritenne Opportuno Procedere Con la massima Cautela All'incrocio Di Cering Cross Road Rimanemmo Bloccati Dal congestionato Flusso Sulla Tottenham Court Road Delle macchine Provenienti Da Londra Nord Non migliorò Di molto Nemmeno In seguito Lungo New Oxford Street E Holburg Usciti Dall'ingorco Però In un tempo Relativamente breve Arrivamo davanti Ad un edificio A due piani Che si profilava Nella nebbia Come una massa scura Il console Rimase in macchina Ponce Ed io Scendemmo Parinin Si affacciò Al finestrino E' meglio Che io Non mi faccia vedere Signor Ponce In caso Potrete raggiungermi Al consolato A qualsiasi ora Oppure Se preferite Col massimo Piacere Verrò io Da voi Vi assicuro Che farò Tutto quanto Sta in me Per facilitare Il vostro compito Ehi voi Dall'ingresso Della pensione Un poliziotto Ci gridò qualcosa Non si può Stare lì Circolare Subito Parinin Diede un secco Ordine Al suo autista L'automobile Si mise in moto E ben presto Scomparve Inghiottita Dalla fitta nebbia Il poliziotto Avanzò Di alcuni passi E ci sbarrò Il cammino Vietato L'ingresso Disse Decisamente Ma in quel Mentre La luce Della sua torcia Illuminò Il viso Del mio amico Oh ma è lei Signor Pons E c'è anche Il dottor Parker Vi chiedo perdono Prego Venite pure Signor Pons L'ispettore Jamison È già là dentro La luce Della torcia Si spostò Ed il poliziotto Ci volse le spalle Per andare Ad aprire Il portoncino Al rumore Dei nostri passi Nel vano Di una porta In fondo Al lungo corridoio Si affacciò La testa Di un altro poliziotto In controluce Sullo sfondo Della stanza illuminata Egli Si tirò indietro Per cedere il passo All'ispettore Jamison La cui figura Grassoccia Era facilmente Riconoscibile Mentre avanzava Verso di noi Guarda chi si vede Pons Non avrei mai creduto Di incontrarvi Sulla scena Di un delitto Tanto banale Anche se è una frecciata Mi lusingate Jamison Disse Pons Con un sorrisetto Però non mi pare Che trovare Il cadavere Di uno sconosciuto Assassinato Nella camera Presa in affitto Da qualcun altro Sia proprio Una cosa Di tutti i giorni Jamison Alzò le spalle E si fece di lato Volgendo il volto Paffuto Dai baffetti Ben curati Verso l'interno Della stanza Date pure un'occhiata In giro Pons Volevamo far portare Via il corpo Ma ci è stato Dato ordine Di non toccare niente Prima che voi Aveste visto Tutto di persona Un ordine Arrivato direttamente Dal ministero Degli esteri Naturalmente Pons Dedicò anzitutto La sua attenzione Al corpo Della vittima Il cadavere Seduto Su una poltrona Era parzialmente Crollato Su un tavolinetto Posto quasi Al centro Della stanza La testa E le spalle Poggiati Su una scacchiera Giacevano In posizione Grottesca Fra i pezzi In disordine Nella caduta Un braccio Della vittima Doveva aver Spazzato in parte Il ripiano Del tavolo Infatti Alcuni pezzi Di scacchi Erano sparpagliati Per terra Sulla sinistra La testa Appoggiava Sul braccio Destro Le dita Della mano Destra Erano contratte Su un alfiere Senza alcun dubbio La vittima Era stata Colpita alle spalle I poliziotti Dal canto loro Avevano Già reperito L'arma del delitto Il pesante Candelabro Che era per terra Accanto alla poltrona Quasi a prima vista Notai Che il morto Non era molto Ben vestito Ma qualcosa Stava a dire Che la sua Trasandatezza Era più intenzionale Che dovuta Alla povertà Grassissimo Doveva amare Molto la buona tavola A giudicare Dalle mani cicciose E dal volto Carnuto Semi nascosto Da una folta Barba nera Non era certo Un bell'uomo Da vivo Doveva essere Stato giudicato Repellente Da molta gente Pons Tuttavia Non degnò Il cadavere Di molta attenzione Il suo aspetto Sembrava interessarlo Assai meno Delle tracce Di colui Che aveva Precedentemente Occupato La camera In questa Come i giornali Avevano riferito Regnava realmente Un gran disordine A giudicare Dalle apparenze Doveva essere Stata frugata In fretta e furia Da cima a fondo Cassetti Semi aperti Vestiti Buttati a terra Nell'armadio a muro In fondo alla stanza Libri e carte Dagli scaffali E dalle mensole Sparpagliati Alla rinfusa È stato rinvenuto Qualcosa Nelle tasche Del morto Domandò Pons Jameson Si limitò Ad annuire Indicando la seggiola Di fronte al cadavere Sopra C'erano Due oggetti Un sacchetto Di sabbia E un singolare Sigillo Di metallo Pons Li esaminò Entrambi Con l'abituale Diligenza Il sacchetto Di sabbia È il marchio Di fabbrica Di proprio Mentre il sigillo Pare quello Di qualche Associazione segreta Il circolo segreto Suggerì Pons Con un sorrisetto Enigmatico Sì Ci avevo pensato Ma non sono sicuro Che l'organizzazione Esista ancora Ultimamente Scotland Yard Non ha avuto Notizie comprovanti Che il circolo Sia attualmente attivo E nemmeno Ne ha avuto Il servizio Di controspionaggio Possiamo ritenere Che il circolo Sia stato soppresso Oppure Che sia diventato Clandestino Sul sigillo È stato impresso Piuttosto rozzamente Un arabesco Che fa pensare Al governo sovietico Disse il mio amico Mostrando l'oggetto All'ispettore Probabilmente Il circolo È stato assorbito Dalla polizia segreta Sovietica Pons Gironzolò Per la stanza Esaminando attentamente Cassetti E libri E fermandosi Più a lungo Davanti ad uno Degli scaffali Si infilò persino Nell'armadio a muro E controllò L'adiecente Gabinetto di Toletta Poi Tornò accanto A Jameson Che stava Osservando il cadavere Indubbiamente Voi di Scottrandiard Vi sarete già formati Un'opinione Su quanto deve essere Successo Qua dentro Niente di preciso Per ora Secondo me Questo tizio Questo Propov È venuto qui Con il deliberato Proposito Di far fuori L'inquilino Della signora Baker Ma qualcosa Deve essere andato storto E le parti Si sono invertite Naturalmente Non escludo La possibilità Dell'intervento Di una terza persona Avete una descrizione Dell'uomo Che si faceva chiamare Landon Hall Beh Piuttosto vaga La deposizione Della signora Baker Non ci è stata Di grande aiuto Un uomo Di statura media Col pizzetto Però qualcuno Si è fatto la barba In bagno Durante le ultime Ventiquattro ore Intervenne Pons Si sarà rasato È logico Che lo abbia fatto Se è stato lui Ad uccidere Propo Forse sperava Di farla franca Sbarbato dunque È zoppica Probabilmente Ha una gamba ortopedica La sinistra Di sughero Credo Certamente Avrete notato Come liscia La scarpa sinistra Di ogni paio Che c'è nell'armadio Jamison Annui distrattamente Un uomo Che deve godere Di una certa agiatezza Continuò Pons Se ha potuto Permettersi L'acquisto Di una copia Numerata Della traduzione In russo Del volume Fisiologia del gusto Di Brillant Savarin Con acclusa Un'incisione originale Di August John Un uomo Di grande cultura Davvero Lo si evince Dal fatto Che possiede Libri In sette lingue Differenti È un esteta Direi Se colleziona Libri come Stones of Venice Di Ruskin Hills of Dream Dimension E altri Del genere In conclusione O è lui stesso Un ex Nobile russo Oppure deve avere A suo tempo Occupato Una posizione Che gli ha consentito Di venire in possesso Di libri Come questi Molti dei quali Portano Lo stemma Dei Romanov L'ispettore Guardò Pons Di traverso Certamente Poi Avrete capito Che porta I capelli Piuttosto lunghi E che è un uomo Di mezz'età O anche un po' Più in là Con gli anni Sul bavaro Del cappotto Appeso Nell'armadio Vi sono Dei lunghi capelli Alcuni neri E altri grigi Indubbiamente Poi Vi sarete Anche reso conto Che Hall Di temperamento È piuttosto nervoso E che usa Il monocolo E va bene Pons Mi avete battuto Si direbbe Che sappiate Chi sia Penso proprio Di sì Disse Pons Tranquillamente Jameson Rimase Di stucco E non lo nascose Ma andiamo Pons Non spererete Che vi creda Vero Ma ancora una volta Il mio amico Sorrisse con aria Sibillina In questo caso Le vostre deduzioni Sul suo aspetto fisico Sono elementari Ma per quanto riguarda Il suo temperamento Nervoso Per dirne una Nel secondo cassetto Di quello scrittoio Intervenne Pons Troverete un monocolo Con il suo cordoncino Vicino al fermaglio Il cordoncino È molto sfilacciato Logorato Dallo sfregamento Secondo me Le persone nervose Che portano lenti Giocherellano in continuazione Con i fermagli Del cordoncino Girandoli così tanto Tra le dita Per avere Le mani occupate Ma come giustamente Dite voi Questi sono Particolari Elementari Avevate cominciato A dirmi Qual è la vostra Opinione Su quanto è successo Qui dentro Partendo dal presupposto Che Propof Si è venuto Con l'intenzione Di liquidare All Esatto Cominciò a dire Jameson E avrebbe continuato Se Solar Pons Non l'avesse Ancora una volta Interrotto Già E poi Si è ammansito A tal punto Da mettersi a giocare A scacchi con lui Sul momento Jameson Rimase sconcertato Forse Beh Può darsi che Hall Non sapesse Chi era Propo Io credo Di sì Invece In effetti Fra le pagine Di un libro Che si trova Sull'ultimo ripiano In alto Della rastrelliera C'è una vecchia Fotografia di Propo Ritagliata Da un giornale Un libro Rilegato In rosso vivo Continuò Pons Mentre l'agente Jones Si avvicinava Alla rastrelliera Per esaminare I libri Sull'ultimo ripiano Poco dopo Jameson Aveva in mano La fotografia Pensieroso L'esaminò Strizzando Gli occhi slavati Questa fotografia Risale Perlomeno A cinque anni Fa Pons Da allora Hall Può benissimo Essersi Dimenticato Di Propo Non ricordo Di aver espresso Un'opinione Contraria Ma il quadro Da voi Prospettato Di un uomo Che è venuto Per uccidere Si siede Tranquillamente Per fare una partita A scacchi E finisce Lui medesimo Assassinato Lascia in sospeso Alcune domande A mio avviso L'assassinio Non era Lo scopo principale Del compagno Propo A mio avviso Egli Era in cerca Di qualcosa Jameson Fece un gesto Circolare Come per abbracciare Tutta la stanza Che sembrava Sconvolta Da un ciclone No amico mio Questa confusione Non è stata fatta Da qualcuno In cerca Di una cosa Specifica Credete che Hall Avrebbe permesso A Propov Di buttargli All'aria La camera E ammesso E non concesso Che sia andata così Dopo che Propov Ha fatto Questo disastro I due Si sarebbero messi A giocare A scacchi Ma che La stanza Ridotta in questo Stato Per la fretta Con cui L'assassino Prima di scappare Ha cercato Le cose Che Fuggendo Non poteva Fare a meno Di portare Con sé A meno Che Naturalmente Non accettiamo L'ipotesi Che l'assassino Sia una terza Persona Per ora Ignota Si capisce Vi siete informato Su Propov Certamente Abitava sotto Il nome Di Pyotr Arlov Al numero 217 Di George Street E' una zona Molto frequentata Dai profughi russi Allora E' probabile Che Hall Inizialmente Conoscesse Propov Come Arlov Noi riteniamo Noi riteniamo Che Hall Vedesse In Propov Soltanto Un compatriota Verosimilmente Si erano già Incontrati Altre volte Hall Fuggitivo Dalla Russia Immigrato Clandestino In Contra Propov Russo Come lui E crede Che anche Questi Sia un Profugo Ecco Come la Vedo Io Mentre Sono intenti A giocare Una partita Di scacchi In Hall Si fa strada Il convincimento Che la sua Vita Sia minacciata Dall'uomo Che egli Conosce Come Arlov Con un Pretesto Si alza Portandosi Alle spalle Di Propov E Afferrato Il candelabro Colpisce a morte Il suo nemico Poi Si rade In fretta Prende Soltanto Le cose Indispensabili E Scappa Già E lascia Il portafogli Ben fornito Di biglietti Di banca Nella tasca Del suo Mantello Pesante Può benissimo Essersene Dimenticato Sebbene Non si sia Dimenticato Di radersi Per camuffare Il suo aspetto Non vi pare Logico Che Se ha pensato A questo Avrebbe Anche dovuto Preoccuparsi Di munirsi Dei quattrini Occorrenti Per allontanarsi Da Londra Forse Aveva altre Risorse È possibile Voi sostenete Che Propov E All Essendo Compatrioti Si frequentavano E che All potrebbe Aver conosciuto Propov A casa di Questo Visto che Tutti e due Si tenevano Nascosti Però Non vi Sembra In un certo Senso Strano Che All Un uomo Raffinato Un uomo Colto Bazzicasse Un ambiente Dove notoriamente È più facile Incontrare Uomini Del calibro Di Propov Piuttosto Che gente Di elevato Livello Culturale Perché Non avrebbe Dovuto Si teneva Nascosto No Era russo E mi pare Logico Che cercasse Di incontrare Altri russi Anche Con il rischio Di cadere Fra le braccia Di Scott Trandiard Ponce Corrugò La fronte Voi Pensate Che egli Schivasse La polizia Io Direi Piuttosto Che cercava Di rendersi Inreperibile Per i suoi Compatrioti E allora Come spiegate Che abbia accettato Di incontrarsi Con Propov Arribatte Jameson Trionfante Niente Prova Che abbia accettato Di incontrarsi Con Propo Dite piuttosto Che ha accettato Di incontrarsi Con Arlo Va bene Va bene Continuate Potremmo anche Legittimamente Sospettare Che Olle Propo Entrambi Agenti segreti Sovietici Siano venuti A diverbio E che Propo Ci abbia lasciato Le penne In questo caso L'accusa Sarebbe Di omicidio Volontario Ma se invece Risultasse corretta La vostra ipotesi Le cose Cambierebbero Si tratterebbe Di legittima difesa Non è così Jameson Sporse le labbra Riflettendo Ne dubito L'assassino Potrebbe Sostenere La legittima difesa Niente di più Logico Ma le prove Indiziarie Non convaliderebbero La sua tesi A parer mio Olle Salvo nel caso Che risultasse Sprovvisto Di documenti Personali Probabilmente Verrebbe Impacchettato E rispedito In Russia E lasciato Alla mercè Del governo Sovietico Non è vero? Credo Pleonastica Ponce Cercava Di fare Il punto Nel suo Cervello Sul probabile Destino Di Olle Se questi Fosse Caduto Nelle mani Della polizia Chiariti I suoi dubbi In merito Il mio amico Si dedicò All'esame Dei pezzi Di scacchi Sparsi Un po' Dappertutto Pareva Che stesse Contandoli E inconsciamente Io Feci altrettanto Sedici pedine Quattro torri Quattro cavalli Quattro alfieri Due regine Ma c'era Soltanto un re Forse l'altro Era rotolato Sotto qualche mobile Proprio mentre Stavo pensando A questo Ponce Si inginocchiò Per sbirciare Sotto il tavolo Sul tappeto Vicino alle poltrone Jameson L'osservava In silenzio I suoi rapporti Professionali Con Ponce Erano di lunga data E gli avevano Ormai inculcato Una sorta Di tacito rispetto Per i metodi Del mio amico Per suo conto Egli si limitò Ad esaminare Superficialmente Un cavallo Che prese Dal ripiano Del tavolo I pezzi Intagliati in avorio Parevano molto robusti Erano lavorati a mano Ed indubbiamente Molto pregiati Se fossero stati miei Mi sarebbe dispiaciuto Privarmene Purtroppo però Il gioco degli scacchi Non era perfetto Ponce Rialzandosi Teneva in mano Due regine Una La piazzò Immediatamente Sul tavolo L'altra Continuò A tenerla in mano Il perfetto colore Di quest'ultima Era sciupato Da una linea Che la circondava Nel bel mezzo Evidentemente Essendosi rotta Era stata aggiustata Con dell'adesivo Suppongo che vi siete accorto Che manca un pezzo Un re Per essere precisi No Non ci avevo fatto caso Si vede che lo aveva Rimpiazzato con qualcosa Per giocare Anche questa è una possibilità Seppure remota Convenne Ponce Porgendo la regina All'ispettore Avete qualcosa In contrario A che io mi conservi Questa regina Niente da obiettare Purché siate pronto A restituirla Se Hall tornasse E la volesse indietro Intesi Disse Ponce Infilandosi in tasca Il pezzo Un'altra cosa Ponce Disse Jameson Leggermente sulla sua Non è il caso Che vi domandi Spero Se voi ed io Lavoriamo per raggiungere Lo stesso scopo Sono persuaso Che chi ha avuto Il potere Di immobilizzare Noi poliziotti Per una decina di ore Non può essere Se non qualcuno Che dispone Di un'influenza Considerevole Perciò Da questo punto di vista Non ho altro da dire Eccellente Però Vorrei chiedervi Un paio di favori A vantaggio mio E vostro Naturalmente Vorrei che Facendovi forte Dell'autorità Di Scottrandiard Faceste pubblicare Un trafiletto Su tutti i quotidiani Londinesi Può essere redatto Come volete Ma il senso Deve essere Pressapoco questo Si interruppe Bruscamente Alla vista Della perplessità Apparsa sul volto Di Jameson Anzi Butterò giù Due righe Io stesso Avvicinata A una seggiola Scostati I pezzi Di scacchi Trovò Un foglio di carta Nel cassetto Del tavolo Dalla parte opposta A quella Dove era Accasciato il cadavere La penna La portava Sempre con sé Perciò Senza perdere Tempo Si mise a scrivere Con la sua Calligrafia A ferma e nitida Mentre l'ispettore Ed io In piedi Dietro di lui A mano a mano Leggevamo Cosa che al mio amico Seccava moltissimo Le indagini Relative All'assassinio Di uno sconosciuto Trovato morto In una pensione Gestita Dalla signora Autilia Baker E sita Al numero 37 Di Vauburn Place Sono state affidate All'ispettore Seymour R. Jameson Che come si ricorderà Ha dato un'ennesima prova Della sua sagacia Risolvendo Non più di due settimane fa Il caso Del Narciso Nero L'ispettore Jameson Con lodevole celerità Ha appurato Che il defunto Era un certo Pyotr Arlov Un profugo russo Abitante al numero 217 Di St. George Street Stepney Basandosi sugli indizi Da lui raccolti L'ispettore è giunto Alla conclusione Che anche il pigionante Scomparso Quel tale Landon Hall Sia probabilmente Rimasto vittima Di un delitto Infatti Gli oggetti Più preziosi Della sua proprietà Sono ancora nella stanza Da lui abitata Non è da escludersi Che il signor Hall Sia stato rapito Perciò Certi ambienti Di Stepney E di Wapping Notoriamente frequentati Da emigrati russi Sono sotto Stretta sorveglianza La salma È stata rimossa E gli agenti di guardia Hanno fatto ritorno Alla centrale La signora Baker Rivolge ai parenti Del signor Hall La preghiera Di ritirare Al più presto Gli effetti personali Di questo Affinché le sia consentito Riaffittare la stanza I risultati ottenuti Dall'ispettore Jameson In occasione Di precedenti inchieste Sono una garanzia Che il colpevole O i colpevoli Non rimarranno A lungo Uccell di bosco Terminato di scrivere Ponce Apporse il foglio All'ispettore Leggetelo E diramatelo Ai giornali Immediatamente Benissimo Ponce Sarà fatto Disse Jameson Evidentemente Molto lusingato Chiamò con un cenno L'agente Jones E gli consegnò L'articolo Scritto da Ponce Senza prendersi La briga Di rileggerlo Poi Si rivolse Di nuovo Al mio amico E per quanto Riguarda I rapitori Consigliate Di far sorvegliare La casa Di St. George Street Senza dubbio Jameson E naturalmente Ritirerete I vostri uomini Da qui Immediatamente L'ispettore Obiettò Credete Che sia il caso Penso di sì Visto che Parker e Dio Occuperemo Questa stanza Fino a dopodomani Come minimo È il piano migliore Se vogliamo Ottenere Dei risultati E tenete presente Che i risultati Che otterrò Non saranno Soltanto miei Saranno anche vostri Fate pure Con comodo Ma levate di mezzo Il cadavere di Propof E anche la collezione Di prove Che c'è Su quella seggiola Ah Jameson E non dimenticate Il candelabro Il cosiddetto Instrumentum mortis Soltanto quando L'ispettore Jameson Se ne fu andato Con i suoi uomini Ponce si rilassò Seduto sulla seggiola Su cui prima Erano riunite Le prove E raccolte da Jameson Fissò la poltrona vuota Di fronte a lui Con sguardo interrogativo Poi I suoi occhi Si rivolsero Alla mensola Del caminetto Retrostante Ed io Ne dedussi Che egli Stava figurandosi Siò nel gesto di colpire Propofo Si Parker Avete ragione Disse senza voltarsi Sto ricostruendo il delitto Determinati aspetti Non mancano di Se non nel modo Se non nel modo Che è costato la vita A tanti altri russi bianchi Omicidi Eppure Abbiamo tutte le prove Che i due uomini Vittima e carnefice Prima del delitto Stavano giocando a scacchi Insieme Secondo me Se Propof Aveva per scopo La morte di Hall Una partita a scacchi Con la vittima Disegnata Non avrebbe potuto Essergli di nessuna utilità La figura del killer Che cova con lo sguardo La futura vittima E' roba da fumetti No Credo che L'intento principale Del signor Propof Non sia stato Quello di uccidere Hall Magari quello Era solo Lo scopo complementare Pare che Al nostro Buon Jameson Questo particolare Sia sfuggito Sarei curioso Di sapere Se è sfuggito Anche al signor Parenin Beh certo Che le circostanze Sono davvero peculiari Bontà vostra Ammetterlo Disse Ponce Con un sorrisetto Malizioso Mai tanto peculiari Però Quanto la vostra Dichiarazione Di sapere Chi sia Hall Stabilire L'identità Di Hall Non è poi Così difficile Parker Abbiamo Molti indizi Significativi E' un profugo Russo In qualche modo Legato Alla ex Famiglia Regnante Ha perduto Una gamba O un piede Che sia E portava Il pizzetto Alla Van Dijk Tornate Tornate ora Col pensiero Al 1917 E cercate di Figurarvi un Nobile russo Cui calzi a pennello La descrizione È di Hall L'immagine Il conto Ma no Ma no Lui è morto A chi stavate Pensando Parker Al conte Serghei Romanov Il cugino Dello zar Esattamente È lui Il nostro uomo Ma è impossibile Esclamai Niente affatto La sua morte Non è mai stata provata Vi ricordate In che circostanze È scomparso Non ne so niente Sono certo però Che non si è rifatto vivo Come hanno fatto Tanti altri Aristocratici russi Ricomparsi un bel giorno A Vienna O a Parigi Permettete che vi rinfreschi La memoria allora Nel 1918 Circolarono delle voci Circa la sua Fuga di emergenza Come la chiamavano allora Avvenuta proprio Una settimana prima Che lo zare E la famiglia imperiale Venissero imprigionati Via Berlino Scotland Yard Ricevette certe informazioni Che l'ispettore Jameson Avrebbe fatto bene A rispolverare Il conte Non si era dileguato Del tutto a mani vuote Con lui Era sparita anche Una gemma Piuttosto preziosa Il diamante Degli Orlo Del valore Di circa Centomila sterline Ecco a che cosa Mirava proprio Avete fatto centro Parker I miei complimenti A mio avviso È inconcepibile Che i sovietici Si siano rassegnati A lasciarsi sfuggire Dalle mani Un gioiello del genere Senza fare nemmeno Un tentativo Per recuperarlo Compito questo Che si adattava A pennello Ad un tipo come Propo Non v'è dubbio Però Il conte Deve essere stato Al corrente Dell'identità Di colui Che lo tallonava Fin dal 1923 Questo Questo lo si deduce Dal ritaglio Di giornale Che egli ha conservato E che è proprio Del 1923 Il che costituisce Una conferma Forse si deve La fotografia Riprodotta Su quel ritaglio Se il conte Non riconobbe Propof La prima volta Che lo vide Questi abitualmente Non portava la barba Era uno Di quegli individui Che si credono Più interessanti Con una mascella Quadrata Spinta in avanti Come a sfidare Il resto Dell'umanità Dunque Ricostruiamo Ora gli avvenimenti Come con ogni probabilità Si sono svolti Possiamo presumere Che forse Il conte Conobbe Propof Per uno di quegli Incontri fortuiti Che quest'ultimo Sapeva bene Come organizzare Propof Non ha nessuna fretta Di far fuori il conte Deve prima scoprire Dove è nascosto Alla gemma Perciò Coltiva l'amicizia Con il nobile russo Per farsi da questo Invitare Nel suo alloggio Dove Propof Spera di rilevare Qualche indizio Sul nascondiglio Della gemma Sfortunatamente Per lui Il conte Lo riconosce Sotto le mentite spoglie Di Arlo E come giustamente Ha arguito Jamison Agisce all'istante Passando All'offensiva Con un pretesto Qualsiasi Si alza in piedi Portandosi alle spalle Del suo potenziale assassino Afferra il pesante Candelabro di bronzo E lo uccide Le sue mosse Susseguenti Ovviamente Sono dovute Al panico Chissà se Propof Deve aver pensato Forse la casa È sempre sorvegliata Perciò Cerca di mascherare La propria identità Già marcata Dalla mancanza Di una gamba Si rade Completamente In preda Che la vostra Che la vostra teoria Faccia un po' Acqua Non potei fare a meno Di obiettare E non senza Una sfumatura Di trionfo Non c'è logica Nel fatto Che Parenin Rappresentante Ufficiale Del suo governo Protegga Un ex aristocratico Russo Un nemico Dei sovietici Beh amico mio Il genere umano È carente di logica Temo che Il signor Parenin In fondo in fondo Sia un monarchico E non simpatizza Certo per Propof Le cui innumerevoli Atrocità Provocano In chiunque Ne sia conoscenza La sensazione Che tutto sommato Ha fatto La fine Che si meritava Sì però Se Parenin Vuole che il conte Se la cavi Come avete potuto Promettere A Jameson Che i risultati Che otterrete Saranno anche suoi Beh In passato Lo sono stati comunque Che io fossi d'accordo Oppure no Ma se non sapete Nemmeno dove sia Il conte No Non lo so Infatti E nemmeno Desidero saperlo Se Jameson Manterà la promessa Di far pubblicare Dei quotidiani Il trafiletto Che ho scritto Credo che sarà lui Il conte A venirci a trovare Senza indugio Oh andiamo Ponce È assurdo Lo arresterebbero Perché dovrebbe Tornare qui Ponce Sorrise Enigmaticamente Perché ha preso Il pezzo di scacchi Sbagliato Come sarebbe a dire Vi suggerirei Di confrontare Il peso Di quella regina Che è sul tavolo Con il peso Di quella Che ho in tasca Me le porse Ambe due La differenza Di peso È minima Quasi impercettibile Ma esiste Il diamante Orlo È nascosto Nel pezzo Di scacchi rotto Che avete in mano Ma è inammissibile Che il conte Abbia commesso Un errore Tanto madornale Obiettai Un errore dovuto Alle circostanze Immagino Guardate qui Parker Chinatosi Prese in mano Il re Dobbiamo presupporre Che il conte Abbia preso L'altro re Secondo me L'unica spiegazione Plausibile È che anche Quel pezzo Sia stato restaurato Probabilmente A suo tempo Il conte Aveva tentato Di nascondere La pietra Nel re Ma ha resosi conto Che il pezzo Era troppo piccolo Si era servito Della regina La notte scorsa Sconvolto Com'era Ha semplicemente Sbagliato Ha afferrato Il re Invece Della regina Come aspetto E dimensioni Non sono poi Tanto dissimili A quest'ora Si sarà certamente Accorto Del suo errore Perciò Indubbiamente Tornerà qui Per venire A prendere Il pezzo giusto Non appena Riterrà di poterlo fare Senza correre Il pericolo Di venire arrestato Se ho persuaso Jameson A far pubblicare Quel trafiletto È proprio Per questa unica ragione Perciò È poco probabile Che riceveremo Visite Prima di sera Prima che Escano i giornali Con le ultime notizie Intendo Se oggi Non avete malati Da visitare Dal momento Che non abbiamo Nient'altro da fare Possiamo utilizzare Le ore del giorno Per dormire Oppure Che ne dite Di una partitella A scacchi Parker Poco dopo Le undici di sera Di un giorno Assolutamente vuoto Sentì Che Pons Allungava la mano Per toccarmi Leggermente Un braccio State fermo Parker Sussurrò Il nostro uomo È alla finestra Mi giunse All'orecchio Un fruscio Dall'esterno Nel riquadro Della finestra Contro lo sfondo Biancastro Della cortina Di nebbia Una figura Si stagliava Completamente Immobile Nel silenzio Più assoluto Poi L'impannata A vetri Della finestra Chigliottina Cominciò a salire Verso l'alto Molto lentamente Per un quarto Della sua altezza Una pausa Forse Per ascoltare Convinto Di non essere Osservato Il nostro visitatore Spinse in su Il vetro Al massimo Dopo aver Orrigliato Ancora Per alcuni Secondi Allungate le braccia Si aggrappò Agli stipidi Per aiutarsi A saltare Nella camera Rimanendo poi Immobile E teso Avvolto Nell'oscurità Una sagoma Indistinta Sul biancore Della nebbia esterna Avanzò lentamente A passi Quasi silenziosi E leggermente Ecclaudicanti All'improvviso Pons Accese La sua torcia A mano La luce Centrò il volto Del nostro ospite Il conte Serghei Romanov Se non mi inganno Disse Pons Non volete Accomodarvi? Il conte Abbozzò Il tentativo Di raggiungere La finestra Ma io Fui più svelto Di lui Perciò Egli si voltò Di nuovo Verso Pons Che raggiunto Di un balzo L'interruttore Aveva acceso La luce Mezzo abbagliato Il russo Fissava Pons Battendo le palpedre Notai Quanto perfettamente Corrispondesse Alla descrizione Di Pons E notai anche Che si era Scorticato il mento In vari punti Radendosi in fretta Era alquanto Spettinato E nel volto Appareva Di un pallore Innaturale Le sue labbra Sottili Tremavano Non siete Non siete Della polizia Vero? Domandò In un perfetto inglese Aggrappandosi All'ultimo filo Di speranza E guardandoci Ora l'uno Ora l'altro No Non siamo Della polizia Signor Conte Lo rassicurò Pons Lui Si lasciò cadere Su una seggiola Che cosa Volete da me? Suppongo Che siate venuto A riprendere Questo Disse Pons Allungando la mano Sul palmo C'era il pezzo Di scacchi rotto Il conte Sconvolto Da un terrore Subitaneo Fissò Pons Voi appartenete Al governo Del mio paese? No Signor Conte Ma stiamo agendo In via Ufficiosa Per conto Di qualcuno Che ne fa parte Oh E di chi? Si tratta Di Parenin? Sì Certamente Si tratta Di lui Proprio così Lo conoscete? Quando era cadetto Montava spesso Di guardia Nel palazzo Di mio padre Sì Lo conosco Benissimo Era l'unico In questa città A conoscere La mia vera identità Inutile dirvi Che siamo Conoscenza Della maggior parte Delle circostanze Che hanno condotto La morte di Propo Ma diteci Come lo avete conosciuto? Questo è l'unico Particolare Sul quale Non abbiamo Che congetture Per la strada Signore Oh è stata una pazzia Me ne rendo conto Ma io Ero così solo Così solo Pare Nin Non poteva Venirmi a trovare Senza destare Sospetti Propof Deve avermi Riconosciuto subito La sua gentilezza Era eccessiva Io invece A prima vista Non l'ho riconosciuto Sebbene sapessi Che mi cercava Fin dal 1923 Quando ero a Parigi Infatti Ero stato messo Sull'avviso Avevo persino Ritagliato Una sua fotografia Da un giornale Credevo Che così Mi sarei sempre Ricordato Della sua faccia Ma nel frattempo Egli Si era lasciato Crescere la barba Perciò Lo riconobbi Soltanto Quando si sedette Lì Di fronte a me Per giocare a scacchi Era la seconda volta Che veniva a trovarmi Notai Che era mancino E mi sovvenne Che anche Propof Lo era Lo studiai Attentamente E mi convinsi Che si trattava Proprio di lui E una volta Certo del fatto mio Non esitai Lo uccisi Immediatamente Come vedete Poi Mi sbarbai Completamente Ma questo Sta soltanto A dire Quanto fossi disperato A che serviva Radermi Se non potevo Cambiare la mia gamba E poi Nella fretta Presi il pezzo Sbagliato Voi signore Sapete anche Del diamante Pons Annui in silenzio Avevo cercato Di nasconderlo Nel re Ma lo spazio Non era sufficiente E allora Lo nascosi Nella regina Non potete Figurarvi La mia amarezza Quando me ne resi conto Finché Non ho letto L'ultimo resoconto Dei giornali Alzò lo sguardo Strizzando Gli occhi Non c'era niente Di vero Dunque Sono Nelle mani Della polizia Al contrario Quel trafiletto È stato pubblicato Proprio per Permettervi Di recuperare Il gioiello E per farmi Arrestare Da voi Replicò Il conte Con amarezza Purtroppo Il mio dovere È consegnarvi Alla polizia Pons Si strinse Nelle spalle Ma naturalmente Questo Vi appartiene Proseguì Porgendo Il pezzo Di scacchi Al conte Datemi In cambio Il vostro re Senza fare Parola Il conte Consegnò A Pons Il pezzo E lui Se lo infilò In tasca In sostituzione Della regina Ora dobbiamo Avvertire la polizia Conte Romanov Ne avremo Per alcuni minuti Disse Pons Nel frattempo Potrete controllare Il contenuto Di questa valigia Ho pensato Di far bene Mettendoci dentro Il vostro portafogli I vostri libri I più preziosi E buona parte Dei vostri indumenti Spero Di non aver Dimenticato nulla Per un istante Gli occhi di Pons E quelli del conte Si incontrarono Poi quest'ultimo Mormorò Alcuni ringraziamenti All'indirizzo Del mio amico Che aveva avuto La gentilezza Mentre io dormivo Di preparargli La valigia Pons Mi fece un cenno Ed entrambi Lasciamo la stanza Il telefono Era nel corridoio Solar Pons Chiamò il numero Dattogli Dal console sovietico Signor Parenin Lo udì dire Parla Solar Pons Vi ho chiamato a proposito Di quanto abbiamo Discusso ieri L'uccel di Bosco È ora qui con noi E tutto si svolgerà Secondo il previsto Ma sarà bene Evitare Ulteriori indagini Ufficiali Domani mattina Di prima ora Telefonate per favore All'ispettore Jameson Di Scott Randiard Comunicandogli che io Ho affidato Alle vostre cure L'uomo conosciuto Sotto il nome Di Landon Hall Rendete certo L'ispettore Che Hall Scortato da agenti Del vostro governo È già in viaggio Per la Russia E soprattutto Assicuratevi Che l'ispettore Jameson Riceva il dovuto Encomio Per aver risolto Il caso Del delitto Avvenuto al numero 37 Di Vauburn Place Una breve pausa Poi Pons Fece udire La sua solita Risatina Una comunicazione Ufficiale Benissimo Jameson Ha il massimo rispetto Per tutto ciò Che è ufficiale Riagganciò Credo che così Avremo contentato Sia il nostro cliente Sia il riverito Ispettore Adesso Vediamo come sta Il nostro prigioniero Cautamente Sbirciò Nella stanza Del conte Non c'era nessuno Povero me Che sbadati Siamo stati Temo proprio Che il prigioniero Se la sia svignata Mentre tornavamo a casa Pons mi disse Non dimentichiamoci Di guardare I giornali Del mattino Parker Sono sicuro Che nella pagina Della cronaca Troveremo un articolo Con un'intestazione Super giù Di questo genere L'ispettore Jameson Ha di nuovo Fatto centro Gli audio racconti Serie Solar Pons Il pezzo Di scacchi rotto Di August Derlet Letto Da Dan Detto Detto Del T D Grazie a tutti.